Siamo qui al Giovediamoci, questa sera abbiamo con noi Francesco Monte e ho anche il mio cuginetto da Milano. Saluto gli amici di Milano, qua è stupendo, Sea Garden è veramente strabello. Allora vi aspettiamo tutti quanti, tutti i giovedì sempre qui al Sea Garden. Ciao ragazzi! Ciao! Ma chi è? La Francesco Monte in realtà è un ricongelo. Francesco Monte vuoi tornare a casa! Francesco vai a casa! Subito! Sei così e non lo sai! Lei non sta bene, aiutatela! Michele io sono innamorata di te, allora non ho il coraggio di dittelo, quindi te lo dico qui adesso, voglio stare con te. Non sta bene, è malato! Sapete stasera chi c'è qui al Sea Garden? Si sta! Ma direttamente da uomini e donne, non c'è Sea Garden! Maronna mi! C'è anche la scioffio! Ha la potenza di far arrivare su un'elezione facile. Non c'è, non dipendimi. Fai io la scelta la scioffia. Ecco. E ce l'ho capito, ma tu hai visto una stessa postura, non c'è la stessa. Basta, 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 basta! Ci fai un po' di nuovo! Non ci fai un po' di nuovo! Uh! Videobox! Comunque stasera, giovediamoci, Sea Garden, Francesco Monte. Andate un'ante. E come disse Cicciolina, chi ne ha? Più ne metta. Io amo quest'uomo. Anche io questo. Tonight, special guest DJ Enzo Palivene. Come si sta stretto qua dentro? Tutte donne. Che gli facciamo? Complimenti a me. Che dite? Che gli facciamo a Enzo questa sera? No, no, no. Che facciamo? Già sto bevendo. Io chiudo la porta. Sì, io sono venuta solo per Enzo Palivene. Che si sappia, eh? Mando un bacino a tutti gli amici di Pecbicum. Una lana a Sicilia. Una lana a Sicilia. Una lana a questa segmento. Videobox! Francesco Monte, c'è bellissimo! Stasera stiamo al cioccolato. Ciao cari! Ciao cari! Ciao cari! Agulio a Francesco! Grazie! Ciao! Ciao, io boco! Ciao! Ciao! Volevamo fare tanti auguri a Darianna che fa 18 anni. Uuuuuh! Uuuuuh! Quante il caranta? Uuuuuh! La zoccola non è un animale! Voglio portare Francesco Monte! Vogliamo Francesco Monte! Diciamo che stasera ci sta un farfalleficio. Ciao Monte! Questo è il più bello di Salerno! E' un animale! Vincenzo a tutto! Vale, andiamo! Oh, siamo fattati una film Francesco Monte! Diamo, Vale! Auguriamo! A una lana a moto che beve sempre la scocca! Giornabruzzi! Abruzzi! Un passo ai presenti e non presenti. Un applauso a queste belle ragazze! No, ma come vi trovate al cigarene questa sera? Benissimo ragazze, tutti i giovedì e la stessa musica è sempre bello venire al cigarene! Uuuuh! Videobox! Allora, le donne sono come le piastrelle, più le scopi, più si fanno belle! Che vive ai figli e molte e molte e molte saluti di chi da me! Videobox! Buonasera! Diciamo che è stata una bella serata, però... Francesco Monte! Francesco Monte! Francesco Monte! È un bel aggiunto! C'è C su stasera! C'è C su stasera! Guarda, guarda Videobox! Guarda gli amici di questo servono! S'nervissimo! È il momento del bisogno! Comunque la sera è finita! Ci sono stasera! Un bacio a tutti! Per i prossimi giovedì, lista di Cicarda! L'anno prossima... La settimana prossima siamo alla Croazia! Ciao caro! Ciao Francesco! Ciao Mino! Iooo! Ecco a voi Francesco Monte! Mi strillano... Teresa, ho un tapposto su Cicarda... Una foto? Stasera... Manca il nostro idolo Antonello Mogavero! Vai ballerino! Ballerino! Woooo! Videobox! Stasera è delirio! Arrumatramma tutto il posto! 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 Che sto facendo? Un bacione! Arrumatramma tutto il posto! Volevamo fare gli auguri alla nostra amica... Daniella! Che oggi è il suo... Compreanno! Compreanno! Questa sera tutti questi ragazzi per Francesco Monte! Ma ci avete visto bene? C'è Bubba! Ragazze non pensate a Francesco Monte! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Serena! Tanti auguri a te! Amato! Li voglio fare Francesco Monte! Messe ragazzo top di Salerno e Provincia signore! Ci! Aveca Francesco Monte! Ero C****! Viva餅 gente! Aaaaaaaaaaaa! Viva la fin 배. Le femmine saranno tutte cioccoli e i maschi e i ragazzi tutti stronti, quindi ci saranno sia cioccoli che stronti, ma su Francesco Monda che sei? Anninda! Ci vedete su Facebook Andrea Farina Piondino e Fiore Calderisi, signore e signori, ecco voi, Moreno Fali Mene! Questo è per il nostro paro compagno, padre mi perdoni! Un saluto a Paola, che tal? Un saluto a Heidimburgo, ciao Paola, mi raccomando, fa bro! Ragazzi un saluto a tutte le persone che stasera non ci sono, alla faccia vostra, solo ciaccarelle ci sono qua, tutti! Sugar, batta, rumello e danno, mi avete fatto perdere la voce, ciao! Un saluto a tutti i ragazzi di Salerno! Forza Napoli! Forza Hit! Un basso per via, invece di Facebook! Un intervista ad Agnello, Agnello quanti anni hai? Hai bevuto? No, 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 ciao mamma! Gianluca, faccio un saluto! Viva la Milf, altro che Francesco Mondo! Videobox! Saluto particolare allo staff e speriamo sia una bella serata! E Francesco Mondo è qui con noi! Un applauso ai cornuti e contenti! Bravissimi! Complimenti! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Balingo! Sempre! Solimari! Volevo dare un bacio a chi ci vuole bene e a chi ci vuole male! Siamo state capaci di smontare il Videobox! 27 luglio 2012 Una parola per Francesco Mondo! Un'altra serata! Un piedi! Da Giovanni e Gianni! Ciao! 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 Ciao bravo! Ehi lino! Escusate! Un auguro in particolare alla mia amica Anna! Andate tutti a Palma de Maiolta! Andate tutti a fanculo! Stasera vorremmo fare un saluto a Lorenza, a Anna Ragazze che scrivono su Facebook Mi preparo per andare a Sigarden Ma te non ti vedo di messi! Come ti vedo di papari? Andate! Avete visto queste ragazze che sono appena uscite? Stanno con noi! Ernesto! Dal buone! Sì! Il coglione! Il giovedì sera! Non ti ubriacare alle altre feste! Vieni direttamente al Giovediamoci! Mi raccomando! Woo! Videobox! Uè! Su su! Io sono venuto a questa serata per fare gli auguri ad Anna Che è una bellissima ragazza e se lo meritava! Auguri a Anna! Grazie! Adesso! Adesso! Buona sega! Buona sega a tutti! Meglio sole e alcolizzate! Che è lucide e male accompagnate! Ma non lo amo! She can't! She can't! She can't! Ma non lo amo! She can't! She can't! Ne voglio! Amma cancea sta cazzo di capa! Già vediamoci! Già vediamoci! In realtà l'ospite di stasera è Mario Monti! Ragazzi buonasera e benvenuti! Questa sera c'è Francesco Monte! Magari! Grazie! Grazie ragazze! Giuggete su Facebook Raffaele e Gregorio! Francesco Belmonte! Un bacio! Ciao bella! Un saluto a tutte le persone che non ci sono! Non la faccio a loro! Io sono finanziato con Teresa! Eccolo qui! Non la faccio a loro! Magari un saluto a Eviezzo! A Eviezzo! A Eviezzo! A Eviezzo! A Eviezzo! Ciao Videobox! Ciao! Siamo qui a vedere Francesco Monte che non è ancora arrivato! Chi lo sa perché? Ciao Videobox! Ciao a tutti! Un bacio a tutti! Mettiti la maglia di lana Piero! Sennò la mamma ti iscriverà e non potrai entrare con Alessandro Barra! Buonasera Videobox! Sono Federica! Noi vorremmo fare l'interepo a tempo con la canzone! Ma sei innamorata? Ci siamo ianchi! Ebbene! E come tu hai fatto? Passo dal Cireno! L'altro buonassimo! Omi che danno! Un bacino a te due! Ok ciao! Francesco Molto Lo amo La nace sta Francesco Molto E tutti i ragazzi stanno così perché le ragazze sono tutte impegnate a mandare i baci Per una volta E adesso presentiamo Francesco Molto Ragazzi c'è da dire che tutti quanti stanno facendo una fila per Francesco Molto E noi stiamo nel video box Video box Ragazzi finalmente è pervisto Francesco Molto Ho l'amorato a me e cincino bello E se non volete ruoto modello E grande e frischi e tosse e potente Se non lo chiamo a la metà Amore Questo è per voi Questo ciò ci vediamo Eccolo Proffiamo fatta Mi sono fatta la fatta per Francesco Monta Anche io E' bellissimo Francesco Monta Eccolo Parosi frischi Sina bellezza I love you E' tornata la salenitana E' tornata la salenitana La salenitana Sono Giovanni il cucinio di Francesco Ciao Fini Ciao Fini Ciao Macici Francesco sei bellissimo Non ne pensare Non ne pensare Sono invidioso Contro lui ha l'abbronzatura della cannottina E noi la faremo vedere Allora qua ci sta Francesco Munte Sinceramente io penso di essere un po' più bello E' vero ragazze? Sì In particolare è il più bello L'hanno detto anche in coro L'hanno detto anche in coro Io non li ho pagate Comunque facciamo un saluto al Videobox E dopo torniamo Non vi preoccupate che torniamo dopo Un bacio Venite al giovediamoci Perché vi divertite Anche perché ci stanno le ragazze Mi raccomando venite Ciao Ciao Daniele Ciao Ciao Rara Dancia a curi ad anni Anche a curi ad anni Mettichiamo dei pirelli Ragazzi venga l'idola verde Venga l'idola verde Venga l'idola verde Venga l'idola per Rara Aggiungendola su Facebook Ciao Venga l'idola verde Ciao Ciao La coccola Non è un animale Ho fatto la vada con Francesco Ragazzi ho fatto la vada con Francesco Munte E ho 39 di febbre Guarda giù vediamoci Mamma l'ho visto la volta Ok Mamma l'ho visto la volta Mamma sono in cinta Ma cazzo Io amo tutte le donne Non vale la pena Non vale la pena Innamorarsi Una della cosa più bella Che c'è nel mondo Un bacio a tutti i single del mondo Mi chiamo Giovanni Vengo da Castellammare E sono qui a fare il progetto di grande febbre Ciao Prima ma mentre ti chiamo si guarda E ne se pare stasera Ci siamo appena fatti la foto con Francesco Munte Bellissimo Ma vedetevi la verità Non è più bello lui Ma va 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 Avete mai visto la pubblicità dell'Axe Quando il ragazzo si spruzza il profumo E tutte dietro le donne Ma non Francesco Munte Un bacio a tutti E' il nostro amico Antonio Tattoo Saluto Antonio Ciao Ragazzi dovete sapere una cosa Questa faccia di cazzo Ha fatto il tatuaggio Niente di meno che Al piersivo Berlusconi Sul culo Buonestri e benvenuti Sicarda Giorgiamoci Asciugare a Valencia Salirla in semuccecca Cos'è questo? Giorgiamoci Ragazzi Un bacio zuccherato a tutte le mie farle A tutti i miei fan Dove è Francesco Munte? Non abbiamo visto Francesco Munte Eccolo E' normale che non abbiamo visto Francesco Munte Guarda Non ti vuole andare Siamo qui a T-Card E' molto più bello E' molto più carico Oggi facciamo dieci mesi Dieci mesi Wow frate Veramente stai facendo Willan Un saluto Ad Alberto Rosanna Che sono a casa Ciao ragazzi E' bellissimo Francesco Francesco Munte Fai ridere Toi le bocca Io amo l'Italia Siamo campioni del mondo Ci ama ci segue Essere scelte da Francesco Munte Vuoi fare una foto? Non ha prezzo Videobox